miei cari amici qui di fronte alla facciata del santuario di cussanio da dove vi parlo voglio condividere con voi l'importanza la sofferenza di questo tempo con la presenza del virus non solo nella nostra italia ma nel mondo intero e voglio riflettere con voi condividere con voi è un momento importante della nostra vita di fronte le sofferenze che ci hanno riguardato che forse ci riguarderanno ancora che hanno riguardato il mondo intero che riguardano capoverde vi aspetto veramente vi aspetto a presto grazie a tutti grazie a tutti